Dopo l'evento in streaming di accensione dell'albero del 3 di dicembre un altro evento importante quello della sera della vigilia 24 dicembre alle ore 21 in diretta su Fano TV e anche in diretta su tutti i canali social del comune di Fano realizzato in collaborazione con l'orchestra sinfonica Rossini con il teatro della fortuna faremo gli auguri alla città ma in un modo veramente particolare. Saranno i maestri dell'orchestra sinfonica Rossini a suonare lo schiaccianoci di Tchaikovsky e saranno i bambini del consiglio dei bambini e i ragazzi del liceo Nolfi a rappresentare con dei disegni animati, animati grazie alla regia di Harry Secchiaroli a raccontare appunto lo schiaccianoci, la storia dello schiaccianoci. Quindi uno spettacolo particolare però che darà un carattere preciso alla città, quello della Fano città dei bambini e delle bambine e quindi sarà un modo per fare gli auguri a tutta la città per questo Natale.